Allora, vediamo, ti pensa, questa persona ti pensa, che intenzione ha nei tuoi confronti? Ti pensa o non ti pensa? Passiamo al seno del leone, vediamo il seno del leone, utilizziamo dapprima i tarocchi zen, i tarocchi zen di Osho e poi i tarocchi di Marsiglia, ricordo che i tarocchi di Marsiglia sono tra i tarocchi più antichi utilizzati dalla tarologia francese, utilizzati anche da il grande Carl Gustav Jung, il famoso psicanalista. E vediamo per il segno del cancro, che ci dice il segno del cancro? Diciamo che è una persona molto introversa, chiusa al suo interno, quindi questa persona non ha tanta voglia di interagire con gli altri. È sicuramente però una persona di successo, una persona che nella vita sa quello che vuole. e c'è la possibilità di creare una relazione con te. È una persona che quando va alla ricerca, ringrazio ITEC, che quando va alla ricerca di una relazione, cerca una relazione che possa essere una relazione di lungo termine, una relazione che si può sviluppare in modalità, diciamo, come possiamo dire in modalità... Sì, scusate, il segno è il segno del leone, scusate, il segno è il segno del leone. L'ho detto cancro, ma in realtà siamo al segno del leone, siamo passati al segno del leone, 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 leone. Quindi qua siamo sul segno del leone, segno del leone. Allora, sì, quindi il segno del leone ci rappresenta questa situazione. È una persona, dicevo, un po' chiusa, un po' chiusa in se stessa. È una persona che non sa esattamente quello che vuole e ha un po' queste caratteristiche, diciamo. Da un punto di vista economico, finanziario, non ti porterà bene. Quindi, chiaro, sei un del leone, tieni presente che le possibilità ci sono, ma avrai che fare con una persona che comunque ti darà problematiche. Purtroppo vengono su tutte le relazioni problematiche. Tra l'altro è anche una persona abbastanza superficiale, che non vuole una relazione a lungo termine e il 5 di denari conferma che i soldi tendono ad andarsene, non a venire. Il 5, purtroppo, è denaro che se ne va. Quindi, chiaro, sei un del leone, io lascerei perdere. Anche in questo caso non approfondirei i rapporti con questa persona. Veniamo al segno della vergine. Ti pensa questa persona? Beh, diciamo che c'è una grande affinità. Quindi, chiaro, sei un del leone, questa persona ti pensa e pensa di costruire un mondo con te, di costruire qualcosa di importante. Eh, qua viene fuori proprio il sogno d'amore. Quindi, chiaro, sei un del lavergine, non c'è niente da fare. Quindi, questa relazione è un sogno d'amore. Quindi, potrebbe essere veramente la persona giusta per te. Vediamo cosa ci dicono i tarocchi di Marsiglia. Ecco, viene fuori il quattro, il quattro di bastoni. C'è anche la personalità. Quindi, è veramente una relazione completa. Questo, chiaro sei un del lavergine, chiaro sei un del lavergine. E hai anche la forza per affrontare questa situazione. Quindi, tutti i presupposti stanno a dire che la vergine avrà una relazione molto, molto significativa, molto importante con questa persona. e direi che è un buon passo avanti. Vediamo un attimino di passare al seno della bilancia. Che ci dice? Il seno della bilancia. Se questa persona ti pensa, questa persona è interessata a te, oppure no. È una persona che ha un'immensa fiducia nei tuoi confronti, sarebbe disposta a gettarsi nel vuoto. e quindi questa è una situazione molto, molto importante. Quindi, è una situazione, quindi siamo messi bene, chiaro sei un della bilancia. Quindi qua, la bilancia completa fiducia nei tuoi confronti. Ti farà vivere un po' di stress, ma in amore diciamo che un po' di stress è interessante. Basta che impari a seguire il flusso delle tue emozioni, cara bilancia, e devi avere un po' di pazienza. Ecco, un amore che nascerà gradualmente. Vediamo se questa persona è veramente interessata. Beh, diciamo che è una persona che è seria, è sicuramente una persona seria, tende però a essere un po' troppo, talvolta un po' troppo bigotta, e questa volta sì che invece ha un passato, diciamo, abbastanza burrascoso. Quindi magari in passato avrà ancora qualche fardello, probabilmente una ex moglie, una situazione di questo genere, che è la situazione della bilancia. Per cui, devi andarci con i piedi di piombo. Eh sì, devi andarci con i piedi di piombo, altrimenti è una relazione che rischia di collassare. Però è una persona che comunque ti pensa, e comunque è abbastanza centrata su di te. Devi soltanto andare un po' piano, se vuoi ottenere qualche risultato. E passiamo, e passiamo al segno, passiamo al segno dello scorpione. Vediamo lo scorpione, che ci dice lo scorpione. Allora, vediamo che ci dice lo scorpione. Lo scorpione è la persona ti pensa, è una persona però fondamentalmente instabile, è una persona che non ha tutte le caratteristiche, diciamo, migliori per portare a lungo termine una relazione. Comunque lo scorpione è una persona che proietta, anche quindi fai attenzione, perché potrebbe identificarti come una persona con certe caratteristiche, ma in realtà sta proiettando su di te. E quindi da questo punto di vista presterai un po' di attenzione. Prima di iniziare una relazione, fai attenzione perché rischi di trovarti, diciamo, in un mar del sacro. D'altra parte è ancora ingrappata al passato, quindi come dicevamo, potrebbe essere che non è ancora chiuso con la testa, ringrazio Caravaggio, non è ancora chiuso con la testa, non si è ancora liberato, non si è ancora liberato di un fardello del passato, potrebbe essere una problematica, però potrebbe essere anche una ex moglie, una persona con la quale è ancora relazionato e non sta uscendo, diciamo, non si sta liberando. Quindi fai attenzione. A lungo termine, medio termine, ci sarà comunque una fioritura, ci sarà comunque, grazie Daniela, ci sarà comunque un cambiamento positivo, quindi una relazione in pectore, diciamo attualmente, che però può fiorire e diventare una relazione importante. Vediamo, sempre per quanto riguarda il siano dello scorpione, cosa ci dicono i tarocchi di Marsiglia, grazie Giulia intanto. Allora, viene fuori un otto, un nove, anzi, un nove di spade che sta a dire che è una persona un po' superficiale, diciamo, non guarda tante in profondità, però essere superficiale ci sta e d'altra parte la passione è forte nei tuoi confronti, ti percepisce come una persona, come il potenziale, la potenziale donna, diciamo, o uomo, mutants della tua vita. Viene fuori sempre anche il nove, questa volta, di bastoni che conferma una buona personalità. Quindi, bisogna aspettare un po' di tempo e vedrai che riuscirai a ingranare, diciamo, con questa persona. Serve solo un po' di pazienza. Nel frattempo, iscriviti al canale, attiva la campanella così riceverai le notifiche dei nuovi video. Seguimi su Instagram, Massimo Tremasco Ufficiale e su tutti i canali, fai donazioni anche al canale, puoi fare tranquillamente donazioni al canale. Bene, bene.